Come detto quindi in questo video, cercheremo di fare un po' di chiarezza su chi comandava a Roma nel periodo repubblicano. Infatti, se quando c'erano i re la cosa era abbastanza evidente, essendo una monarchia, così come poi dopo, in età imperiale, è l'imperatore a comandare, nel periodo repubblicano vediamo tantissime assemblee e tantissimi titoli che si sovrappongono a volte uno all'altro e rischia quello di non capirci molto. Quindi, piano piano, cercheremo di fare un pochino di ordine in questo caos legislativo, dovuto anche al fatto che via via nuove assemblee o nuovi compiti venivano messi a disposizione dallo Stato romano, e quindi era sempre un accumularsi, diciamo così, di cariche. Cominciamo dal basso, per cercare di capire come funzionava appunto la Repubblica Romana, e cominciamo parlando delle assemblee, che erano quattro quelle principali. Innanzitutto c'era l'assemblea curiata. Era un'assemblea che aveva una sua utilità, soprattutto nel periodo regio. Dopodiché, una volta finita la monarchia, il suo prestigio diminuì moltissimo, e non aveva una grandissima utilità. I cittadini erano divisi in trenta curie, e qui si riunivano soltanto per alcuni atti formali, per esempio per votare alcune leggi, o investire i magistrati. Investire non con la macchina, ma nel senso di dare loro la carica, ok? Quindi l'assemblea curiata era, diciamo, la meno importante di tutti. Invece, l'assemblea centuriata, al contrario, era una delle assemblee principali. Infatti questa rappresentava tutto il popolo di Roma, quindi tutti i cittadini romani si radunavano, in questa assemblea, divisi in 193 centurie. Qui il voto non era a testa, a persona, ma a centuria, e le centurie erano in base alla ricchezza delle persone, ok? I ricchi, i patrizi, avevano 98 centurie su 193, quindi se i patrizi si mettevano d'accordo avevano sempre la maggioranza, e si votava finché non si raggiungeva la maggioranza, quindi se la maggioranza veniva raggiunta subito, le ultime centurie neanche votavano. Infatti di solito votavano addirittura soltanto le prime 98 centurie, perché si trovavano d'accordo e raggiungevano la maggioranza, e quindi era un'assemblea guidata soprattutto dai patrizi, ed aveva una grande importanza, come vedremo dopo, soprattutto perché eleggerà diverse cariche importanti della Repubblica Romana. Poi abbiamo l'assemblea tributa. Questa assemblea è nata nel 312, era stata anzi riformata nel 312 da Appio Claudio, e rappresentava anche questa quasi tutto il popolo diviso per tribù. E dopo la riforma di Appio Claudio ci furono anche gli umiles, cioè gli operai proletari, anche lo stato più povero della popolazione poteva partecipare a questa assemblea, anche coloro appunto che non partecipavano alla centuriata. E questa assemblea era utile soprattutto perché eleggeva i magistrati meno importanti, di cui vi parlerò tra pochino. Infine c'era il concilio della plebe. Il concilio della plebe era nato in contrasto con i patrizi. Qui i patrizi non potevano accedervi, quindi era un'assemblea soltanto per i plebei, e era molto importante perché anche in questo caso andavano a nominare i tribuni della plebe, come vedremo poi fra pochino. Infine, queste erano le quattro grandi assemblee. L'ultima assemblea, ma la più importante di tutti, era il Senato, che aveva tantissimi compiti, che poi andremo a vedere, infatti in alcuni casi elegge anche il Senato alcune cariche dello Stato romano. Come vi ho detto prima, esistevano delle magistrature inferiori, cioè che non avevano imperio, nel senso che non avevano un potere vero e proprio, diciamo, però erano comunque magistrature importanti. Tra queste magistrature ricordiamo quella degli edili. All'inizio erano soltanto due, poi diventero quattro, poi sei, però insomma erano un numero variabile, io ve ne ho messe quattro, e furono creati nel 493 a.C. dai plebei. Quindi, come vi ho detto, il numero piano piano aumenta e la funzione degli edili era quella dell'approvvigionamento di Roma, quindi di far sì che a Roma non mancasse mai il cibo, della polizia all'interno dei mercati, quindi attività di polizia all'interno dei mercati, e poi mantenere in generale l'ordine pubblico all'interno della città e organizzare i giochi, sappiamo che i giochi a Roma erano molto importanti. Oltre agli edili, l'assemblea tributa eleggeva anche i questori. I questori all'inizio erano due, poi diventarono quattro, quindi anche in questo caso un pochino i numeri via via cambiano, e la loro origine è appunto agli inizi della Repubblica Romana, e hanno poteri soprattutto finanziari, diciamo una sorta di ministero del tesoro, va bene? Anche loro non hanno imperio, essendo una magistratura inferiore, però amministravano le finanze romane. Infine vi erano i tribuni della plebe, che erano un po' i rappresentanti della plebe, e erano, diciamo, una carica un po' particolare, ok? Dovevano essere, come vi ho detto, per forza dei plebei, avevano un grandissimo potere, e potevano mettere una sorta di veto anche su delle decisioni prese dai magistrati più importanti di loro. Quindi era una, diciamo, una tutela soprattutto per i plebei. Le magistrature superiori sono in particolare due, e queste magistrature sono anche se elette, ed hanno l'imperium, quindi hanno il potere civile, militare, giurisdizionale, insomma hanno tutti i vari poteri che ha uno Stato solitamente. La meno importante delle due era quella del pretore. Il pretore è uno solo, come vedete dall'immagine, ed è incaricato soprattutto della giurisdizione civile, quindi di far rispettare le leggi all'interno della città. E a partire dal 242 i pretori diventarono due, comunque, insomma, questo non è importante, e si occupava quindi soprattutto del lato giudiziario. Oggi il pretore lo potremmo definire una sorta di giudice, diciamo così, dell'antica Roma. E' eletto, come vedete dalla freccia, dall'Assemblea Centuriata, che oltre al pretore, ve l'avevo detto che l'Assemblea Centuriata era una delle più importanti, oltre al pretore l'Assemblea Centuriata elegge anche i consoli. I consoli sono due, e potremmo definirli un po' i presidenti della Repubblica Romana, quindi questa sì la carica assolutamente più importante per quanto riguarda la vita di Roma, ed erano coloro che avevano l'imperio principale, nel senso che loro avevano un potere che era sovrano, politico, giudiziario, coercitivo, insomma, potevano fare qualsiasi cosa, e anche il potere di dichiarare le guerre. Quindi erano molto importanti i consoli, diciamo appunto la carica più importante. Esistevano però anche delle cariche non elettive, che non venivano elette direttamente dal popolo. Quali erano queste cariche? La più importante era la carica di dittatore. Il dittatore oggi ha un'accezione soltanto negativa, all'epoca non era così. Il dittatore veniva eletto in particolari circostanze dal Senato, quando in particolare la Repubblica Romana era in grande crisi, solitamente in tempi di guerra. Aveva un potere illimitato, in realtà, però da un punto di vista temporale la sua carica era limitata nel tempo. Mentre, per esempio, i consoli e i pretori restavano in carica per un anno, il dittatore restava in carica massimo sei mesi, e se la guerra terminava anche prima, cioè alla fine del suo mandato. Nel senso che uno diceva, guarda, siamo in guerra, è un momento di crisi, nominiamo un dittatore. Se la crisi finiva prima dei sei mesi, il dittatore smetteva il suo ruolo prima dei sei mesi previsti. Quindi era una carica che poteva durare anche pochi mesi. Oltre al dittatore, il senato nominava anche l'inter re. L'inter re era una persona che veniva eletta quando i consoli morivano entrambi, o comunque scomparivano in qualche modo entrambi. Allora serviva qualcuno a gestire un attimino il potere nell'assenza dei due consoli. Questa persona era l'inter re, che rimaneva in carica soltanto cinque giorni, giusto il tempo di far nominare dei nuovi consoli. Infine, l'ultima carica anch'essa nominata dall'assemblea centuriata era quella dei censori. I censori erano due e avevano un grandissimo potere. In realtà il loro potere era un potere particolare. Loro rimanevano in carica per 18 mesi e il loro compito principale era quello di fare un censimento della popolazione romana. Ma oltre a quello, i censori erano importanti perché attraverso il loro operato andavano anche a nominare i senatori. Quindi erano i censori che decidevano chi poteva accedere al Senato, che era una carica soltanto per i patrizi, quindi i plebei non potevano andare. Abbiamo detto che il concilio della plebe era solo per i plebei, il Senato era solo per i patrizi. E i censori erano coloro che andavano a decidere chi poteva far parte del Senato e chi no. Quindi era una carica piuttosto importante. Spero che tutte queste frecce, che adesso diventa un caos clamoroso, però spero che vi sia servito per mettere un pochino di ordine. Come vedete è un sistema di potere stratificato, perché via via che serviva un nuovo tipo di potere veniva creata una nuova carica. Quindi la Costituzione proprio dello Stato romano era sempre in lavoro in corso, no? Come vi ho detto, a volte queste storie erano due, poi quattro, poi sei, insomma, cambiavano spesso anche di numero. E questo è proprio per farvi capire come lo Stato romano cercava di adattarsi via via alle varie situazioni. Bene, spero che questa lezione vi sia servita, soprattutto per fare un po' di mente locale. E come sempre spero di rivedervi prima o poi. Grazie.